Marco ha l'HIV e non lo sa. Gli è capitato di non usare il preservativo e gli è andata male. Prima lo scopre, meglio è. Per lui, per le persone che ha amato, che ama e che amerà. Sostieni Lila insieme a me. Ci aiuterai a combattere l'AIDS. Invia un sms al 45517 o chiama da rete fissa. Tu puoi fare la differenza. Grazie a tutti.